ciao a tutti oggi prepareremo il gelato all'amaretto il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa più 4 ore di riposo in freezer gli ingredienti sono amaretti latte panna zucchero tuorli liquore amaretto di saronno sale e vanillina diamo il via alla ricetta facciamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e gli amaretti e li facciamo tritare per 30 secondi a velocità 10 andiamo sul fondo del boccale aggiungiamo il latte la panna le uova il liquore amaretto di saronno il pizzico di sale e la vanillina chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi 5 minuti a 80 gradi velocità 3 il composto è pronto trasferiamolo in un contenitore basso e posizioniamolo in congelatore per almeno 4 ore trascorso il tempo il gelato si è ben indurito lasciamolo fuori dal congelatore circa 5 10 minuti prima di servirlo gelato all'amaretto grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti